Grazie Martino, la nostra gratitudine per te è rimarranciuta. Premo speciale a Martino Cenovi. 1982-2022, 40 anni dalla vittoria del mondiale fruttello indimenticabile della storia del calcio comunale. Grazie a Francesco Grazzano, a Ciannolo, per un sogno praticato e una grandissima storia che con i tuoi compagni soldati. Certi di contenuto del Consorzio del Popolo Romino, che senti grazie. Vita! 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 Tra i tuoi compagni, a cui non tutti ospigliate. Premo speciale per lo sport 2022 a Massimo Anzani, presidente dell'associazione calcio femminile. Primo, Arezzo, la terra dei grandi per la sezione sport. Decana delle società sportive retine. Da 145 anni e parte integrante nella storia di Arezzo. Progenitrice di Rappi da tutto lo sport cittadino e del territorio. Dal numero 277, centinaia del vittore e treno contestato nella manifestazione più importante del mondo. Insegnuta del collare d'oro, Massimo Anzani, la beneficenza di Iconi, è l'unica società retina ad aver vinto un campionato in Serie A. Ancora oggi, dopo 145 anni, prosegue con successo l'attività, Ben Croncia per lo sport non è solo vittore, ma anche impegno sociale. Premo speciale, Arezzo, la terra dei grandi, alla società ginnastica Francesco Petrarca, qui rappresentata dal presidente Simone Renoni. Grazie a tutti. Allora, questo è il premio che riguarda la sezione giornalismo. Giovane giornalista, nata a Croncia di Arezzo, studia e inizia il percorso professionale a Milano, dove vive, ma sempre con un forte legame con Arezzo. Dopo un'esperienza importante, è un'importante azienda della presentazione, che è stata chiamata a far nascere e sviluppare la parte culturale spettacolo del sito dell'importante quotidiano nazionale. Spesso il TV affronta con competenza gli argomenti dei quali scrive. Con volontà e passione, nessun traguardo è precluso, pur partendo da un piccolo paese della provincia. Premio, Arezzo, la terra dei grandi, sezione giornalismo a Claudia Rossi. Grazie. Volevo andare a casa! Bravo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.